Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale oggi vedremo 7 estensioni per mozilla firefox la volta precedente vi ho fatto vedere 8 estensioni per google chrome e questa volta ci dedicheremo a mozilla firefox uno tra i browser più utilizzati in assoluto allora partiamo subito con la prima estensione che è dedicata al mondo google ovvero gmail notifier per integrare appunto uno dei servizi più utilizzati in assoluto di google all'interno di mozilla firefox come vedete qui tra l'estensione abbiamo la busta di gmail con un click inizialmente ci chiederà di impostare il nostro account quindi sostanzialmente di effettuare l'accesso e dopodiché ci segnalerà in modo visivo l'arrivo di un'email con questo numeretto qui in alto a destra farendo un click sulla busta posso già vedere i miei messaggi lui di base parte così in modalità diciamo piccola posso espandere la visione da qui quindi vedere il messaggio un pochettino meglio con il contenuto anche visivo e grazie a queste freccette posso scorrere praticamente i miei messaggi da qui ho pure la gestione se aprire la posta in arrivo archiviare e segnalare come spam cancellarlo o fare un refresh di questa schermata e da qui posso gestire i vari indirizzi email molto molto comodo gmail notifier andiamo alla seconda estensione che è simple translate questo ci aiuta a integrare la traduzione di google all'interno di mozilla firefox vi faccio vedere subito ho aperto questa pagina in inglese questa estensione funziona in due modi la prima è selezionando il testo posso fare un click qui come vedete appare un piccolo tastino rapido oppure fare tasto destro traduce il testo il testo selezionato e qui praticamente ho il mio testo pronto da copiare eventualmente su un file di word e utilizzarlo ovunque posso ovviamente selezionarlo da qui fare tasto destro copia e utilizzarlo dove voglio vi dicevo funziona anche semplicemente tasto destro traduci questa pagina ci andrà a tradurre attraverso google translate la pagina quindi molto comodo e in più posso utilizzarlo anche attraverso il tasto presente tra i componenti aggiuntivi ovvero scrivere direttamente il mio testo qui quindi copiare per esempio da una qualsiasi fonte anche esterna a mozilla firefox il mio testo come vedete già lo ha preso e ottenere la traduzione molto comodo e soprattutto va a integrare un servizio che di base su mozilla firefox non c'è passiamo alla terza estensione che è foxy tab questo va a estendere le funzionalità della gestione delle tab su mozilla firefox trovo molto comodo il fatto che facendo tasto destro su una scheda spunta foxy tab e abbiamo tutto preciso e ordinato come vedete posso duplicare il tab e chiuderlo chiudere quelli duplicati chiudere il tab a sinistra e diverse opzioni molto comode salvare i tab in pdf creare un collegamento rapido sul mio desktop copiare quindi ottenere sostanzialmente l'url il titolo eccetera aggiungere ai miei preferiti il tab a sinistra o a destra e poi posso addirittura ordinare le tab aperte in modo crescente per url o per titolo e anche decrescente ovviamente foxy tab ve lo consiglio ha delle funzionalità carine e oltretutto non va ad appesantire il browser web andiamo alla quarta estensione che è youtube non stop questa è veramente incredibile perché io spesso e volentieri utilizzo google chrome apro la mia playlist musicale e dopo un tot di minuti di riproduzione non navigando su chrome o comunque tenendo aperta il tab di youtube vi si presenterà questa scritta il video è in pausa vuoi continuare a guardare questa estensione materialmente risponderà sì per voi io ho fatto un piccolo test off camera e funziona vi consiglio di utilizzarlo anche voi è un'estensione sostanzialmente che non ha impostazioni però vi elimina il problema dello stop su youtube questo lo devo cercare anche su google chrome perché secondo me esiste youtube non stop passiamo alla quinta estensione che già conoscete se avete visto il video dedicato a google chrome che è i don't care about cookie sostanzialmente ragazzi vi va a eliminare le schermatine che vi chiedono di accettare i cookie ve lo faccio vedere da qui perché non ho voglia di aprire power mode today e mostrarvi questa funzionalità i don't care about cookie io odio il nome di questa estensione vi è agevola accettando per voi i cookie e non vi spunteranno mai più nella navigazione normale andiamo alla sesta estensione forse quella più banale ma l'ho voluta inserire lo stesso che è il momentum ve lo faccio vedere qui semplicemente si va a integrare al momento in cui apriamo una nuova scheda ok gestisci nuove schede ok allora momentum vi dicevo qui mi chiede il nome mettiamo ovviamente Claudio ok vuole anche l'indirizzo email vabbè stai senza il login andiamo avanti e sostanzialmente momentum a cosa serve innanzitutto ci offre un'immagine diversa tutte le volte e poi ci chiede su cosa vogliamo concentrare la nostra attenzione sostanzialmente è una cosa rilassante vedetela così abbiamo diverse impostazioni possiamo impostare anche delle fotografie come vedete posso scegliere da qui ci dà anche il meteo molto comodo a destra e sostanzialmente è una pagina dove posso anche cercare attraverso google abbiamo altri motori di ricerca impostabili e vi va a cambiare la pagina nuova quando apriamo un nuovo tab quindi momentum se volete un attimino rilassarvi e avere una schermata un attimino diversa dal solito one tab forse quella più interessante tra tutte quelle che vi ho appena mostrato a cosa serve facciamo un clic su questo imbutino e in automatico andrà a chiudere tutte le schede aperte erano 10 rendendole una lista sostanzialmente però non le ho perse posso fare ripristina tutto semplicemente cliccare su una scheda tenere queste 9 fuori dai giochi a livello di risorse navigare nel mio sito e poi magari decidere se riattivare tutte le schede con un semplice click o richiudere con un altro semplice click one tab secondo me una delle estensioni da installare assolutamente se avete poche risorse sul vostro computer possiamo anche organizzare in gruppi le schede aggiungi questo gruppo di schede ai preferiti così che poi magari riapriamo la navigazione dopo vi faccio vedere le aggiungo ai preferiti e ovviamente le trovo poi qua nella mia lista come vedete molto molto comodo bene ragazzi per questo video è tutto se conoscete altre estensioni interessanti vi invito a scriverle nei commenti e io come sempre vi aspetto in un prossimo video ciao ciao